Sabato 25 luglio parte da Fano la prima tappa della campagna elettorale di Renato Claudio Minardi per le prossime elezioni regionali. Si tratta di un primo tour dove Minardi ha spiegato un report dei 5 anni di lavoro svolto e un programma per il futuro delle marche. Minardi perché ha scelto di candidarsi? Ho scelto di candidarmi perché c'è sicuramente un lavoro da portare avanti, un lavoro da continuare rispetto a quello iniziato nei 5 anni precedenti. 5 anni precedenti che sono stati fortemente caratterizzati dal terremoto, dalla crisi di banca Marche che ha messo in difficoltà il sistema economico e tante famiglie marchigiane, dalla pandemia e la pandemia ha cambiato completamente l'approccio, ha cambiato la società, ha cambiato le relazioni, ha cambiato l'economia e quindi c'è bisogno sicuramente di pensare al futuro, di guardare avanti, di guardare alle marche del 2030 e quindi in tutto questo vedo una opportunità di mettermi a disposizione e di cercare di lavorare per valorizzare quei settori e per dare risposte a quei settori che ne hanno più bisogno, a partire dal settore del lavoro. Dobbiamo creare posti di lavoro e per creare posti di lavoro bisogna fare sicuramente investimenti, investimenti che guardano alla sostenibilità, all'innovazione, al lavoro soprattutto per i giovani, all'industria 4.0, l'industria che prevede i processi in digitale, al sistema alfanumerico, all'economia circolare perché l'ambiente ovviamente è un tema che deve essere caro non solo ai giovani ma a tutti noi, il pianeta non è il nostro, il pianeta lo stiamo utilizzando, dobbiamo risparmiarlo, non dobbiamo consumare tutte le risorse perché le future generazioni hanno gli stessi diritti che abbiamo noi e proprio per questo credo che dobbiamo continuare il lavoro che abbiamo iniziato, poi ho la grande passione per la politica e quindi mi piace stare tra la gente per risolvere i problemi della gente, i 400 mila chilometri che ho fatto in 5 anni sono una dimostrazione del lavoro fatto non solo a Fano ma in tutti i comuni della provincia di Peserubino e come Vice Presidente anche nel resto delle Marche e quindi credo che questo sia un modo per dare risposte ai cittadini che mi hanno dato fiducia perché la fiducia è un bene importante che non deve mai essere tradito. Quali sono i nuovi obiettivi che vorrà portare da qui in avanti per le Marche? I nuovi obiettivi che voglio portare avanti per le Marche sono quelli che ci siamo dati come coalizione con Maurizio Margielardi Presidente, Sindaco di Senigallia, Presidente Anci, una persona all'altezza di comprendere i problemi della comunità marchigiana, la nostra comunità è una comunità lavoriosa, una comunità buona che ha grandi opportunità, cultura, storia, arte, ambiente, mare, montagna, paesaggio, enogastronomia, turismo e in tutti questi settori dove abbiamo iniziato a lavorare proprio dopo il Covid, proprio perché la società è cambiata, l'economia è cambiata, dobbiamo continuare ad investire in modo importante proprio per dare una prospettiva di lavoro e questa prospettiva di lavoro vorrei dire che va data a tutti alle stesse condizioni, dalla costa alle aree interne, tutti devono avere pari opportunità e per avere pari opportunità bisogna ovviamente creare le condizioni per cui i trasporti, la sanità, occasioni e opportunità di lavoro, occasioni per creare un ripopolamento anche nelle aree interne senza consumare ulteriore suolo, ma dare la possibilità ai cittadini di poter ristrutturare magari i borghi, le case coloniche per potersi insediare nelle aree interne, se c'è lavoro e ci sono i servizi questo sarà un'occasione, un'opportunità, ovviamente questo va fatto mettendoci la testa e guardando al territorio alle stesse condizioni, da Fano a Cantiano, da Marotta a Serra Santabondi o Pergola, da Pesaro a Carpegna. Come reputa l'impegno assunto in questi cinque anni? Sono stati cinque anni faticosi, cinque anni caratterizzati anche da difficoltà, dicevo il terremoto, il crack di Banca Marche, la pandemia, sono state situazioni che hanno condizionato, però la passione con cui ho sempre fatto il mio lavoro mi ha portato a essere sempre in prima linea, io ho questo motto tra la gente e per la gente, quindi lavorare per i cittadini, abbiamo dato le risposte a tutti, probabilmente no, ma abbiamo sempre ascoltato, abbiamo sempre cercato di trovare una soluzione a un problema, ci siamo confrontati con i cittadini, con gli amministratori, anche con le persone singole che ti ponevano un problema, perché una persona che ti pone un problema e te lo viene a porre è una persona che sicuramente quel problema lo vuole risolvere e quando ti impegni le soluzioni non sempre si trovano ma con l'impegno spesso ci si riesce e questo è un po' il mio motto, lavorare con con dedizione, con impegno e con la serietà e la coerenza, dopodiché la nostra comunità è una comunità laboriosa sotto tutti i punti di vista e davvero lo merita. Ha scelto uno slogan ben preciso vicino alle persone? Ho scelto uno slogan, ci sono con te, qualcuno mi ha criticato, ci voleva una virgola, forse in italiano non è perfetto, non importa, ci sono con te è un modo per dire ho lavorato, ho lavorato in questi anni con tanto impegno e anche con tanta dedizione, è un modo per confermare che ci sono a disposizione dei cittadini H24, il mio telefono è sempre acceso, Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, il mio telefono è sempre acceso perché chi fa politica deve essere sempre a disposizione del cittadino e il con te è un modo di collegare il mio lavoro al cittadino, alle persone che ti danno fiducia, mettere la virgola mi sembrava uno stacco, per cui ci sono con te, forse non è corretto, ma l'ho considerato una cosa giusta. Renato ha dimostrato tutte le sue capacità, ma solo insieme a voi noi riusciremo a riconfermare alla guida della regione Maurizio Mangialardi, centrosinistra e ovviamente Renato Claudio Minardi. Grazie. Segretario, una candidatura di Minardi molto significativa e importante per il Partito Democratico e soprattutto per l'intera comunità? Assolutamente sì, per noi Renato rappresenta il miglior candidato possibile per quello che ha fatto nei cinque anni precedenti e noi siamo convinti che meriti di essere riconfermato in Consiglio regionale delle Marche. Sono stati cinque anni intensi di lavoro proficuo tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, grazie soprattutto, come dicevo prima, al lavoro fatto da Renato e anche grazie al lavoro di Luca Ceriscioli alla presidenza della regione Marche. Quindi speriamo, siamo convinti che possa essere riconfermato perché tutto il Partito Democratico di Fano è compatto sulla sua candidatura. E queste mascherine sono il segno tangibile di quanto l'Italia, ma l'Europa, il mondo sta cambiando a causa di questa maledettissima pandemia. Onorevole Morani, quanto è importante far sì che Minardi ritorni in regione? È tanto importante per la città di Fano, ma dico è molto importante per tutta la provincia di Pesaro e Urbino, perché Renato Minardi in questi cinque anni ha dato grande prova di serietà e di affidabilità e soprattutto capacità di portare a casa dei risultati concreti. Ci sono sicuramente nuove sfide, il Covid ha cambiato tutto, noi abbiamo una regione che ha tanti problemi, a partire da quelli del terremoto che non riguardano la nostra provincia, ma che riguardano però la nostra regione, a partire da tutti i problemi sanitari derivati da questa maledetta epidemia, ma anche i problemi economici che purtroppo dovremo affrontare nei prossimi mesi. Per questo credo che servano persone di esperienza, che sappiano esattamente che cosa bisogna fare, che abbiano relazioni importanti e che possano aiutare il nostro territorio. Mi fa una certa emozione rivedere tutta questa partecipazione, perché qui ho tenuto l'ultimo momento elettorale quando sono stato eletto la prima volta a sindaco di questa città, quindi ho i brividi, quindi è una piazza che porta anche bene. Al di là delle battute, le elezioni non sono mai un momento banale, non sempre tutti comprendiamo il valore di quando siamo chiamati a dover scegliere un governo per un ente, per un'amministrazione qualunque sia. E ora di avere amministratori capaci a tutti i livelli. E Renato non deve raccontare niente perché l'esperienza di questi due cinque anni lo ha dimostrato. Allora da sindaco io spero di avere anche nei prossimi anni un riferimento importante. Sindaco, durante il suo intervento ha ribadito più volte come c'è sempre più il bisogno di ripensare al territorio, generare nuove opportunità e soprattutto un'importanza di scegliere persone giuste nel posto giusto. Sì, le elezioni sono sempre un momento importante che alcune volte magari sottovalutiamo anche. Io dico che dobbiamo scegliere quelle persone competenti, capaci e che hanno dimostrato anche sul campo la loro professionalità, la loro capacità. Lo dico da sindaco perché anche in modo se volete egoistico, ma per un territorio, per un'amministrazione avere dei riferimenti nei vari enti è fondamentale. E devo dire in questi cinque anni io non posso che ringraziare per i risultati importanti ottenuti. Devo dire che Renato Claudio Minardi ha dimostrato di aver portato risultati significativi per la città, per quello che mi riguarda, ma anche per il territorio. Quello che ci si pone innanzi molto spesso è la mancata capacità d'ascolto nei nostri confronti. In Renato in questi anni abbiamo trovato non solo un interlocutore sempre attento, ma qualcuno capace di accogliere le nostre idee con serietà e impegno. Un'altra caratteristica che apprezziamo molto di Renato è la sua continua reperibilità e la sua continua disponibilità nell'accogliere le nostre richieste. Per concludere il mio intervento voglio rivolgere un augurio a Renato in cui credo di poter includere tutti, nel dire che spero di poter lavorare in futuro ancora con lui e per unirmi al suo motto noi ci siamo con te. Lascio ora la parola a Renato Claudio Minardi. Grazie, buonasera a tutti. Credo che dopo le parole che sono state dette sono un po' imbarazzato dico la verità, credo che ci sia ormai ben poco da dire, ben poco da aggiungere, insomma i complimenti che sono arrivati sono stati per me di grande soddisfazione e di grande orgoglio, ma dopo le parole dette credo davvero che ci sia ben poco da aggiungere. Intanto voglio ringraziare tutti quanti per la vostra presenza, mi è stato detto che siamo oltre 200 persone, immaginare di avere il 25 di luglio alle 5 e mezza del pomeriggio con il caldo ci starebbe sicuramente molto meglio al mare, credo che la prima cosa che posso fare è veramente ringraziarvi tutti dal profondo del cuore per la presenza e per la testimonianza che mi state dando e che ci state dando. Voglio ringraziare Silvia che ha studiato tutte le cose in modo preciso e puntuale e la ringrazio davvero anche per i giovani democratici che ci stanno aiutando in questo periodo elettorale non così semplice. Voglio ringraziare il segretario Bacchiocchi, il sindaco di Fano Massimo Seri, il sottosegretario di Stato Alessia Morani, a cui mi lega anche una profonda amicizia, ma ce l'ha già ricordato lei. Avete ricevuto sulle seggiole il report di mandato, credo che sia un obbligo, un dovere, dopo 5 anni di lavoro fatto in Consiglio regionale, rispondere ai cittadini che ti hanno dato fiducia e raccontare ai cittadini quello che è il lavoro che è stato fatto in questi anni. Quindi portare i risultati, i finanziamenti, le cose fatte, le presenze negli organi istituzionali, l'attività nel suo complesso che è stata fatta nei 5 anni dal 2015 al 2020. Le cose fatte, le tradurrei in una parola, le cose fatte. Quello che c'è lì, quello che c'è lì, Renato Claudio Minardi, il lavoro fatto insieme per le marche che vogliamo, non è il mio lavoro, è il nostro lavoro, è il vostro lavoro. Perché quando io sono in Consiglio regionale ci sono per voi, non ci sono per me. Perché la fiducia che mi avete accordato 5 anni fa deve essere corrisposta e la fiducia è un bene prezioso che non deve mai essere deluso. Ecco perché è giusto e doveroso dimostrare ai cittadini quello che nei 5 anni hai fatto per la comunità e per la tua città che ti ha dato fiducia. E' proprio sulla fiducia che ho cercato di basare in questi anni il mio impegno, che è il mio impegno politico, il mio impegno anche nella vita, che è basato su un'impostazione di massima, un'impostazione generale, non tradire la fiducia e cercare sempre di essere serio, corretto e coerente con le cose che dici. Per concludere questo aspetto il progetto non è mai personale, il progetto è collettivo, è un progetto generale. Quando si fa un lavoro nella comunità, nelle istituzioni è un progetto collettivo. Se si fa un'opera pubblica, un ospedale, se si fa una strada, se si fa un centro sociale, un servizio, è un bene per tutti e un bene per tutta la comunità. E quindi il lavoro che è stato portato avanti è un lavoro che abbiamo cercato di portare avanti con l'impegno e anche con la determinazione e anche, non lo nascondo, anche con quella competenza che sono riuscito a maturare grazie al lavoro fatto in Comune e anche in provincia. Perché la competenza quando arrivi nei posti dove si prendono le decisioni sicuramente non basta. Aiuta a prendere le decisioni giuste, arriva a capire quali sono i percorsi, quali sono le cose che devi fare, gli ostacoli che troverai e se sai quali sono gli ostacoli che trovi o che troverai, sai prevenirli, sai prevederli e quindi cerchi di o superarli o di aggirarli. Questo credo che sia fondamentale. Quindi la competenza sicuramente mi arriva dai percorsi fatti in precedenza sia in Comune che in provincia che quindi mi ha aiutato a portare a casa i risultati per la città e per il territorio. Abbiamo risolto tanti problemi, ci ho messo l'impegno, li abbiamo risolti tutti? Sicuramente no, ce ne sono tanti che sono rimasti aperti, dappertutto non sono arrivato, ma comunque ci ho provato cercando di dare quelle risposte che il territorio ti chiedeva. Quindi per le marche della conoscenza, per le marche del lavoro, per le marche dei diritti e dei doveri, per le marche della sostenibilità, questo è l'impegno che prendiamo, che prendo di fronte a tutti quanti voi e vi ringrazio davvero di cuore per la presenza che per me è fondamentale per lavorare ancora di più, per non tradire la vostra fiducia per Fano, per la provincia, per le marche tutte. Da ultimo permettetemi un ringraziamento, voglio ringraziare prima di tutto la mia famiglia che mi supporta e mi sopporta per le mie assenze, ringrazio Claudia e Anna perché mi sono sempre vicino nei momenti di difficoltà, ma sono vicino anche nei momenti delle mie assenze o non presenze, perché ovviamente capite bene che per fare 400.000 chilometri in 5 anni, in giro per la provincia, per stare come diceva prima Alessia in mezzo alla gente e cercare di dare delle risposte, a casa ci si sta poco. Però ecco, ovviamente di questo devo ringraziare loro perché senza di loro sicuramente sarebbe tutto più difficile senza le loro comprensioni e il loro supporto. E poi voglio ringraziare i miei angeli custodi, Anuska, Dimitri, Rosetta e tutti gli altri che mi sopportano quotidianamente nel lavoro perché ovviamente senza di loro tutto sarebbe più difficile. Grazie mille della vostra presenza, grazie ancora, grazie dal profondo del cuore e voglio fare da ultimo i complimenti a Silvia perché ha dimostrato non solo la vicinanza dei giovani democratici ma la capacità di essere davvero brava. Tu sarai non solo un giovane democratico ma sarai un amministratore del futuro per questa città, per tutta la comunità. Grazie a tutti.